Buongiorno, quando parliamo di santità abbiamo già visto non possiamo fare meno di parlare di miracoli, anche di miracoli particolarmente recenti, quindi quelli che la nostra conoscenza, la nostra scienza, cerca di spiegare di più perché ne ha più le prove, eppure non ci riesce, perché sono cose che vanno oltre la conoscenza che l'uomo può averne. Ma oltre ai miracoli c'è anche una dimensione legata a quella della santità che potremmo chiamare, anziché chiamiamo la mistica, e oggi vi parlo proprio di un santo maestro di vita mistica, di vita spirituale, che è San Giovanni Giuseppe della Croce. San Giovanni Giuseppe della Croce è un mistico napoletano del 1700 che riceve da Dio tanti doni diversi, quelli di fare i miracoli, quello di vivere una vita estremamente ritirata ed estremamente povera, al limite della miseria, quello di vivere il dono della profezia, cioè quindi di annunciare cose che avverranno, doni di bilocazione, un mistico vero e proprio. Tra i vari doni mistici che San Giovanni Giuseppe della Croce riceve è quello di avere visioni della Madonna che non soltanto, o meglio che interagiscono con lui in questa maniera, la Madonna gli fa portare in braccio, gli fa abbracciare il bambino Gesù. Pensate a questo dono così interessante, lo vediamo rappresentato qua, cioè la Madonna ti offre Gesù bambino e lui lo prendeva, lo prendeva e lo abbracciava e il Gesù bambino giocava, raccontano così le cronache, con il viso di Giovanni Giuseppe della Croce, lo accarezzava, gli raccontava delle cose, che bello, che bello pensare che, vedi, se uno, se fossero cose di fantasia, uno dice ma perché raccontare una cosa di questo genere? E invece è proprio la bellezza di Dio, della fantasia, sì ma di quella di Dio, che ti dice a te che, voglio farti vedere come è tenero Dio, tenero nel senso come ti vuole bene, che si lascia abbracciare da te anche sotto le spoglie di un bambino che è lì, che ti accarezza il volto e che ti racconta all'orecchio, che ti racconta il suo amore. Questa è la bellezza di Dio che si mostra anche attraverso i suoi santi, i suoi santi mistici come San Giovanni Giuseppe della Croce. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata!